buongiorno ragazzi qua siamo alle 7 e 30 guarda un po cosa stiamo facendo tutta in salita questa è la scala della posta di santa margherita di belice il mio cantiere guardate che bella la mia scala tutta a salire che va a finisce la posta guardate un po qua c'è la posta si vede un po la posta la posta il cantiere va avanti con la scala di legno